Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno all'appuntamento con il mondo del fantacalcio. Come sapete, prima abbiamo in partita di Juventus, quasi tutte quando si può, per quanto riguarda il campionato. Io e il mondo del fantacalcio facciamo un pre-partita per vedere un po' quelle che sono le sensazioni e i giocatori probabili che probabilmente arriveranno in campo. Andranno in campo a giocare e vedremo anche quali potrebbero essere delle cose per il fantacalcio interessanti per le vostre squadre. Innanzitutto premetto una cosa, ci sono ancora molte scorie da smaltire dopo quella che è stata la batosta, batosta nel senso emotiva della partita al Bernabeu. Nei prossimi giorni dirò qualcosa, ne parleremo a freddo, anche con le sensazioni a freddo perché quella caldo forse potrebbero essere, non dico esagerate, ma comunque diverse, ponderate. Bisogna vedere quello che hanno sbagliato noi, quello che hanno sbagliato gli altri e tutto il contorno che si è creato intorno a quello che è stata una partita a dir poco pesante dal punto di vista emotivo, bisogna dirlo proprio. Una delusione pazzesca che io metterei, non dico alla pari di Cardiff, perché comunque è un quarto di finale e non una finale, ma diciamo che tenendo conto di questa differenza di step, forse anche più di Cardiff. Ma ne parleremo. Vi mando la sigla e iniziamo con Juventus San Vdorio. La Juve che ospita quindi la Samp in casa, allora in campionato sappiamo che ovviamente c'è veramente assieme agli sgossoli. La Samp Doria è una squadra che è iniziata molto bene per quanto mi riguarda, poi si è un po' persa ultimamente, ha fatto un risultato, un pareggio nel debito della Lanterna, quindi contro il Genoa 0-0. La Juventus è un po' più ottimista per quanto riguarda il campionato, bisogna vedere quella che sarà l'azione dopo quella che è stata la sconfitta ai quarti di finale in Champions. Io penso però che la sconfitta, per come è venuta, cioè una Juventus salda, solida, forte, abbia veramente tanta rabbia da sfogare in campo, che sfogherà secondo me in maniera positiva, non dico una vittoria, ma comunque facendo vedere gli attributi, cosa che ha fatto vedere anche il Bernabeu. Quindi io sono molto ottimista per quanto riguarda queste partite, ma come sempre vanno giocate le partite, poi si giudica e si valuta. Parliamosi chiaro, alle 18 si giocherà Juventus-Andoria, alle 15 si giocherà Milan-Napoli, il Milan che ospita il Napoli, che è la contenente del Napoli, chiaramente per il scudetto, con la Juventus, e quindi ovviamente noi siamo agevolati, perché come sempre gli orari giocano prima, quindi sono agevolati. Allora, la Juventus sicuramente si farà del turnover, ma neanche troppo, perché in realtà il vero turnover, secondo me andrà fatto, secondo noi, andrà fatto nella partita infrassemanale contro il Crotone, perché poi c'è la sfida contro il Napoli, chiaramente capirete anche voi chi dovranno giocare, i suoi titolari. Però questa è una partita che comunque vedrà qualcuno diverso dal solito, perché? Perché veramente spesso tanto dal punto di vista fisico è il motivo della partita, e bisogna un po' trattare le forze per arrivare alla fine della corsa tutti interi e integri. Importa Scesni, torna Scesni, Buffon forse è quello più provato emotivamente dalla sconfitta, è anche giusto così, quindi che tocchi Scesni, per evitare, nel suo caso, secondo me, anche degli errori, perché potrebbe essere troppo ancora atteso e preso dalla cosa, e lo farei giocare contro il Napoli, quindi fa una settimana. Dick Steiner, che rileva De Sciglio, che forse potrebbe riuscire nella stagione, ma poi è un problema che ha avuto, la stagione neanche manca tantissimo, però chiaramente è un problemuccio. A Samoa, favorito su Alexandro, che ha giocato la Champions League, in difesa dovrebbe esserci confermato Benatia e Rugga nel posto di Chiellini, anche Chiellini è un di quelli provati, siccome molto un po' la vecchia quarta è stata provata, anche perché sa che sono le ultime possibilità di far bene in Champions, quindi chiaramente è così. Si potrebbe tornare a 2 al centrocampo, cosa che in realtà non è stata mai ammondonata, ma il Matuidi-Pjanic potrebbe essere la soluzione, con un tridente tutto bello offensivo, con Manzokic in panchina, con quindi quadrato di balla da la scosta davanti a Iguain. Dovrebbe essere questa un po' la formazione che sicuramente, non dico sicuramente, ma probabilmente allegri di mettere in campo. Invece per quanto riguarda la Sampdoria, facciamo un focus sui giocatori più interessanti. Murru si dice che la stagione è finita, e quindi dovrebbe esserci un ballottaggio per la terza di destra tra Strinic e Regini, quindi quello è uno dei giocatori. Poi c'è Torreira, Torreira che è una data assegnata, Torreira che è uno dei giocatori più influenti, più forti effettivamente della Sampdoria, e quindi non distendiamo neanche il gol pur essendo un centrocampista. E infine abbiamo il ballottaggio solito tra Caprari e Ramirez per quanto riguarda tre quarti, i giocatori che stanno un po' contendendo questo posto, e infine c'è Quagliarele davanti. Per quanto riguarda il fanto a calcio, sicuramente puntare oggi più che mai non perché questa partita sia facile, ma perché quello che è stata l'emozione vissuta da alcuni giocatori e la voglia di sfogare, ecco. Sono l'abbia con dei gol, con una partita molto buona, e quindi puntare i suoi giocatori da Juventus, perché secondo me, dal nostro punto di vista, lo sfogo sarà positivo, porterà qualcosa di positivo, non sarà invece un calo, quelli cali di resa, questa non ha resa. Juventus ha fatto vedere che ha potuto rimontare una partita, tra l'altro giocata bene, quella d'andata, però può essere 3-0, con una partita ancora migliore, con tre gol, e con un rigore che poi sappiamo tutti come è avvenuto all'ultimo minuto, cioè all'ultimo secondo praticamente. Quindi diciamo che ci sono modi e modi di perdere, questo è un modo di perdere che fa tanta rabbia, che delude, ma che fa soprattutto tanta rabbia, non fa diciamo una specie di resa di sconfitta come non posso più farcela, fa invece molta, molta, molta rabbia. Quindi sicuramente è una gestione positiva, quindi puntare su chi sta davanti. Iguelin tra l'altro è un giocatore che in campionato segna di più, e anche di Bala, che in Europa, quindi direi che i nomi sono già molto facili. E c'è della scosta, della scosta che è fenomenale, e che se non trova il gol, trova la lastima, con un po' prestazioni molto esaltanti. Per quanto riguarda invece la Sampdoria, io punterei un po' anche su Torreira, come ho detto prima, perché per l'andata, ma anche perché è un giocatore più bravo in centro campo, ma su Quadarella. Quadarella che è l'ex, ed è rigorista. Rigorista e ex, diciamo che Quadarella quando trova l'ex squadra, segna sempre più o meno, tra un rigore o non un rigore. Quindi diciamo che Quadarella potrebbe essere un azzardo, mentre in cui la Juventus, se cala un po' la concentrazione, ci potrebbe anche stare la cosa. Io spero che la Juventus vinca, però ovviamente si può anche vincere subendo qualcosa. Ecco, non è anche detto che bisogna fare sempre partite a zero gol subiti, però chiaramente sarebbe auspicabile. Quindi questo è tutto. Tentami a mente che, secondo me, spero anche secondo voi, la reazione della Juventus sarà molto positiva, a differenza di quelle che potrebbero essere le reazioni dopo una sconfitta, tra l'altro in questo caso, immeritata e dominata per quanto riguarda la gestione delle due partite e i 180 minuti. Detto questo ragazzi, il video finisce qui. Ringrazio come sempre il mondo fan da calcio che invito a seguire. Ci vediamo nei prossimi giorni per i video. Intanto c'è i youtuber steam che torna lunedì come sempre. Detto questo, ci sono altri video, li programmerò anche perché, come sapete, per lavoro sono anche via molto in questo mese di aprile, sarà molto difficile questo mese, tra l'altro. e quindi cercherò di portare il più possibile nel miglior modo possibile. Ho tanti progetti in mente che vi porterò con più calma anche da maggio in poi, con l'estate. Forza Juve! Come sempre, alla prossima. Ciao! Paura, 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 paura.